Scusate Sì, sì. Sì, sì. Sì, sì. 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 Dove vai tu lì? No, chi lo scava i cammini dalla città, si è fatto buone il cammino. E qua non mi fa male. Tutto a sinistra. Vai. Vado un altro pino. Eh, aspetta. Però io ho fondo alto. E' stato qui anche lì. Non lo va a essere. Non lo va a essere. Non lo va bene. Questo è un pino. Un'altra parte. Prima, da vicino. Se è un altro pino. È un altro pino che mi ha tratato. Questo è proprio il fatto. Mi hanno avuto delle sue sensori. Non sait proprio che i'opso siano. Grazie a tutti